Vediamo, Piadina. Piadina, qual è la tua caratteristica vincente con cui ti presenti alle Girls Friends? Mi so fare bomboloni. Dico, sono un bombolone. So fare un bombolone, ottimo. Cioè, per fare un bombolone è ottimo. È molto dolce, è molto... Il bombolone ha varie farciture anche. Certo, io sono il farcitore per eccellenza. Porca miseria, con che cosa si può fare il bombolone? Beh, il bombolone, principalmente, crema e nutella, cioccolato, ci puoi mettere un po' di quello che vuoi. Anche con la marmellata? Anche con la marmellata, però raramente. Raramente, è bello, è nutella, buonissimo. Si può avere con la crema di pistacchio? Sì, quello è famoso. La voglio anch'io.